andiamo al binaco andiamo alla fabbrica del lago lì quale è? vai vai no ma oggi non so è proprio sfiga che oggi non c'è proprio ma si riesce a giocare io oggi e altre volte no ma perché mi ha aperto così alto cazzo prendo sto tesoro qua c'è gente? ma come mi lascio così? e sai che c'è gente? non si ma lì da te? non l'ho visto ma scusa ma non è perché sei più alto e abbandonarmi? che vuol dire scusa no non è che ti abbandonare un altro dio cazzo è tutto il giorno l'ho visto lì e noi anche la prossima volta faccio un lì e lo vado a lega c'è un altro punto no? arrivo vai su qua ma l'altra casa ma l'altra casa ora sono dai non ci credo oh arrivo è qua qua eccolo vaffanculo c'è uno scardoro quello mi sa vado 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 eccolo eccolo dove è? qua qua di qua ma ma dove è andato? ma non è che ne... ah è quello lì sotto mi sta scappando eh non ti capisco mi ha messo tre pochino eh vaffanculo vinico dentro eh pure... pure da dietro vaffanculo bastardi tutto questo per... per sparare... per andare da quel coglione di merda che scappa da tre ore da la casa eh lo so ma tolto tutto eh però puoi li sciucco dai vieni su eh ma non c'è un cazzo di armi eh c'è... c'è un cazzo di okan di armi ascolta vi... di okan dobbiamo andare... dai andiamo via dai 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 figa damme... damme la cosa oh porca troia ma poi sto... vieni con me vieni con me vieni con me vieni su con me vieni su con me ti faccio dare una cosa vieni su ah... adesso vi dare un trucco quindi uno dice qua io mi butto e muoio no ma vieni qua vieni qua non è paura qua uno dici mi butto e muoio no infatti eh coglione che cazzo fai se vai su le gomme se vai su le gomme se vai su le gomme non ti muori eh beh grazie al cale però intanto non ci sento adesso ho sbagliato ma vai su le gomme ma continua a sparare a quel coglione là eh ma non so che sta sparando eh dalla casa a me adesso ho sbagliato ma oh ma qua c'è il... ancora quantina sta eh c'è uno scudo qua sopra però non lo piglio ah c'è un kit si si continui a sparare il crocione dai dammi stappo lì no erbo vuto io eh marca eh allora erbo io allora questo ma quantina sparare eh qualcuno era quel coglione vabbè dai andiamo via dai si ma lasciano stare tanto non è che ah ah non è perché non ho il pittore e mi taglita essendo a sto punto di merda dobbiamo passare andiamo più da qui no aspetta che qua c'è un pompe intanto che mi mi serve che non ce l'ho ecco lo vado eh quindi dove andiamo? io posserei più a pinacoli il ruolo guarderò un po' di... un po' di... un po' di armi qualcosa di ok passiamo dai un po' vediamo come in tempo eh un po' di armi almeno... almeno qua all'inizio non so che è... rischiosissimo come cosa ma... in teoria non... c'è una trappola del merda è una trappola del merda eh e' un monetione prima si stanno a sparare? dove... dove... dove le scale... le scale pu' andar su qua? dove cazzo è? non c'è un'arma qua ci trovi di merda non c'era un tesoro una volta non c'era un tesoro una volta eh hanno preso tutto qua porco dio oh vedete hanno preso tutto non c'ho pochissime munizioni eh eh ma anch'io eh vediamo andiamo, andiamo via dai c'ho un cazzo nemmeno io sono morto un sfarbo perchè c'ho... andiamo qua forse il mio metalito verde le piglio eh ancora meno munizioni non so ancora va io qua non c'è un assight però un sfarbo di sfiga però pistole dappertutto dio che qui c'è qualcosa eh pistole bianche basta c'è un cazzo altro eh pompa vai qui ma tesoro ma ho c'è un te c'è un... uno scudo qua eh te lo piglio eh l'ho preso io che andiamo va intanto non oh vai 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 che sta arrivando la cosa merda è che non dove sta altro lato però un scudo ho trovato ah pure tu? non c'è un po' di munizioni dai un po' di munizioni dai non c'è ancora un assalto ma eh vabbè qua non c'è un tesoro quando vuoi eh non mi ricordo dove però ma... cecchino ma ce l'hai lo scudo allora eh? si si lo piglio anche lo piglio ma che un kit e... nooo ma chi è che mi deve rompere i coglioni? ma sempre a me eh basta ma chi è bu? ma che cazzo? oh eccoli eh vabbè mi hai rotto il cazzo eh vabbè però diokan non muore mai cazzo dai vaffanculo almeno ma muore eh uno l'ho ucciso ma... c'è un altro che mi spara pure da dietro eh vabbè devi continuare a creare vabbè ho finito le munizioni ma che c'è un figlio lì? che partita del merda che stiamo facendo non c'è... non c'è... non c'è armi non c'è munizione non c'è un figlio che ti ha taggiato gioco ma non cazzo non cazzo la robot che c'è qua eh che addio cardono ma no non ce la farò mai tanto poco ma sto distantissimo addio ma infatti ho detto ma che fa ma è... sto spando a quelli distanti e poi visti vicini ho detto ma come è possibile che se un lì se tu sei lì dice eh ma c'è uno col cecchino che rompe i coglioni da lontano poi sono usciti quattro dalla barriera mi sa e non due quindi... non sono sicuro ma... aspetti io provo... che poterlo basta ricarica vecchio no ma non mi... mi prendi delle cose lì per volare distanti più veloce potete prenderle cosa? eh le palle e gli esplosive ehm... ormai no ma non ce la faccio la mia risposta oggi c'è proprio... tutto storto mi vanno... una giornata oggi beh a parte che c'è da dire che se non ho armi non ho munizioni e... non ho scudi... non ho niente... è facile così uccidermi cioè... non c'è un cazzo pistole bianche e così e via e... cioè... c'è anche lo meglio anche da dire eh e mi trovo uno scala in mano è un altro discorso cioè e poi... adesso non dico scala però dio che ha un M4 non c'avevo M4 c'avevo la metaglietta e... e... eh ho capito ma... andato questi da vicino erano comunque quindi dovevi usare il pompa cazzo e c'avevo gli vicini colpi che c'avevo o l'ho spiegato di tutti? eh sì ma se uno comincia a creare quel pompa cosa fai? eh infatti vedi che quello continuava a creare infatti dovevano tutte le ho spiegato i colpi non è rimasto lì il pompa non è potuto andarci addosso a quello è bello che mi stava pure per uccidere eh perché ho sbagliato io magari che... c'è qualcosa di... ma forse ce la faccio ma... ma forse si ce la fai no però nel senso che mi avevo un sacco di vita non c'hai kit? beh non ce l'ho andato no 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 ah è quello mio l'ora prima tanto ora appena... ma appena esco già stanno qui eh ecco lì là e davanti e dietro a sinistra ci sono vedete come sparano a te? non ci credo no non stavo sparando a te però è arrivato un colpo lo stesso sembrava che... a sinistra comunque li hai visti lì sì ma aspetta è vicino tu qua che spara eh eeeh ah no no sotto sotto ma dico dove miravi sotto qua ecco lì la sopra le casette no forse non dovevo sparare si si andano in due quindi tutto bene però adesso quelli ma che fa? e tu te due li hai uccisi? non parola eh non so uno solo ne ho ucciso ma mi sa che l'altro era abbattuto no no ci sono trappole no eh quanta roba però aspetta che non manco vedo ma che là c'è la roba già aspetta aspetta ma devo vedere allora questo non mi serve ma c'è un kit no eh ma là c'è la roba già lo so qua devo vedere qua aspetta 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 voglio far vedere che c'è qua eh piglielo ma fanculo è lenta è lenta dai tranquillo è lenta ho capito ma devo pigliare il coso carica le armi non c'erò tutto carico ma non kit non ne ho no poi vincelo eh comunque poi puoi se vuoi ah vero aspetta ma c'è il coso aspetta vero vero giusto eh ma è lenta dito la bagliata non capito ne ho preparati i mattoni intanto visto che sei pieno no io sono pieno di di tutti sono pieno com'è che si faceva ecco così non aspetta che bello però passo ancora passo ancora ballo alla ciccio gamer oh ma non siamo tantissimi dai sei eh tu puoi vincere con tutto il materiale che c'hai visto da giochi aspettiamo un po' ah non puoi andare in giro com'è la vinci anche se io sarei già andata all'attacco eh diciamo bene però oh c'ho c'ho tutto al massimo c'ho 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 anche uno c'ho tutti i materiali al massimo ma anche ma anche il ferro eh ma non uso il ferro quasi quasi a sto muro poi c'ho munizioni al massimo pure mille mille colpi di dai 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 vai a crearmi dentro da shape dai col ferro si però in un punto alto metto là sopra speriamo che c'è qualcuna è andato qua ecco la ecco la anche se aspe no vabbè ormai ballo spacca l'albero spacca l'albero s 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 non a un suonire per mai velate ti volo farò ancora più alto allora siamo uno solo come me allora c'è pure beh per forza 2 vabbè due saranno insieme ma dietro non è che c'è stato non ci arriva ah è gaspa ma ah li vedi? c'è la scala eh si stanno lì che faccio? sparo? lascia lì ma sono in due pure non c'è gaspill no ah l'ho colpita no 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 non c'è più il muro davanti eh fallo? non so ma voglio cercare di no 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 col secchino mira dritto non sta a mirare più alto perché sei vicino eh insomma pure che l'altro mi push eh l'altro che con lui eh tutto questo è l'altro? il quarto dov'è? no stavo sbagliando eh quelle apparate lì potrebbe essere la tua morte spara lì eh lo so ma infatti no no bastardo che non è altro ma perchè hanno spar- oh ma perchè hanno sparato in due bastarde oh no eh no non devi mica pushare l'altro eh dai scusi dai scusi vai vai scusi hm ma perchè mi hanno fatto il il che se sta faccia no 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 proprio alto sto sparando ho fatto il muro lì dietro che fai oh non ti fai no 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 eh spara con l'rpg becca il muro dietro eh no bastardo oh ma l'altro che l'altro sta raccamperando come un figlio di puttana sta preparando l'rpg ancora eh lo so ma tanto che vuole fare non mi riesce a colpire con l'rpg inutile eh moto no per pochissimo per quanto non l'ho preso eh sì sì faccio salire se non avrete un schermo eh vabbè hai voglia di sparare tanto tanto ne ho i colpi ne ho hai voglia cazzo oh eh allora eh c'è quello che mi spara niente devo scendere eh guarda dov'è troppo come faccio io adesso qua c'ho quello lì da sinistra no il problema è che niente devo togliermi di qua mi spara per la città di puttana vado vado è morto sei sicuro no? eh sì lo so ahhhh ahhhh non è morto no no vado no mi spara ferm Greco si